No, non so te, tu, brava gente, ma fai di qualche uno, non ha capito niente, non so qual è la vita, io posto del cuore, a fine che cresciate, che non c'è un cibo. Michelangelo Balistreri vive ad Aspra, una piccola frazione del comune di Bagheria. Insieme al fratello gestisce un'azienda di conserve ittiche e un museo privato dedicato alla storia dell'acciuga. E fa parte degli imprenditori che hanno aderito all'associazione Libero Futuro. Le sue più grandi passioni sono la musica, la poesia e la Sicilia. Alcuni mesi fa ha ricevuto una visita preoccupante, ma ha reagito così. Che mi ricordo io, e ho domandato anche a mio fratello, non era mai successo ad Aspra che qualcuno ci veniva a chiedere il pizzo. Mai, mai successo nella storia. È successo che sono venuti due, e normalmente qui vengono per chiedere del lavoro. Invece queste due persone hanno chiesto una richiesta di prestito. Inizialmente mi sembrava un prestito normale. Poi quando ho sentito la cifra, 100.000 euro, ho capito che era qualcosa di anomalo, qualcosa che non era molto chiaro. E gli ho detto che se ne dovevano andare perché capì che c'era qualcosa di molto serio dietro, e quindi che c'era qualcosa di losco. E alla richiesta che se ne dovevano andare, loro mi hanno detto, no, ci devi dare dei soldi, devi prestare questi soldi che ti verranno restituiti a 10.000 euro al mese, e alla fine riceverai gli interessi, dicendomi che questi soldi servevano per persone che avevano dentro, cioè intesi come persone che erano andate in carcere. Alla mia domanda, che non era stata colpa mia che queste persone erano andate in carcere, quindi io non centro niente, non posso pagare io le colpe degli altri, ognuno si deve pagare nella vita le loro colpe, e che non si dovevano andare. Loro mi hanno detto che sbagliavo, che stavo sbagliando a parlare, e che tutto questo loro l'avrebbero riferito ai grossi. Io ho risposto che di grosso conosco solo Dio, e nella nostra vita noi siamo dei semplici operai della vigna, e che possiamo sbagliare e non possiamo sbagliare. Ma io non ho mai sbagliato, quindi non c'entravo niente con il loro quotidiano vivere, e che se no dovevano andare. Non mi era mai successo di incontrare persone di questo tipo. La prima cosa che pensi è la famiglia. La seconda è la tua terra. L'amore per la tua famiglia è per la terra. Perché una terra non l'ami quando dici che è bella. È semplice dire che la Sicilia è bella, Palermo è bella, Taormina è bella, ma la ami solo quando la difendi. E quindi in quell'istante ho pensato che la Sicilia, la mia dignità, la mia famiglia, mi apparteneva. La dovevo difendere, quindi dovevo scacciare via queste persone, e dovevo non diventare complice, perché accettando le richieste si diventa complice. E diventando complice queste richieste assurde di un quotidiano vivere che non è la Sicilia, la Sicilia è una poesia, non fanno parte loro della nostra vita. Queste persone sono come minuscole persone che non fanno parte della storia della Sicilia. Quindi quando tu accetti questi compromessi diventi complice. La loro forza è il silenzio. Loro ti colpiscono nel tuo silenzio, nella tua omertà interiore. Cioè tu non devi parlare con i tuoi, non devi parlare con nessuno, ma devi solo sottostare alle loro richieste. E quindi tu diventi estraneo nella tua famiglia, non ti puoi confidare con nessuno. E questa è la loro forza. Ma se tu arrivi a casa, racconti tutta la famiglia, e racconti a tutto, a tutto il paese, a tutti, alla stampa, a qualsiasi cosa, loro diventano deboli. Loro diventano forti solo quando c'è il silenzio. La denuncia per il pizzo non deve essere una convenienza, deve essere un dovere. Non dovete arrivare al punto che i carabinieri, le forze dell'ordine, la finanza, la polizia, vi metta davanti a un fatto compiuto, ma deve essere la vostra coscienza a reagire. Quindi si deve denunziare subito. Perché, come detto prima, si diventa complici. Ma tu non ti somai la voce della mia terra. È una poesia. Le altre cose non fanno parte né della gente, né di questa terra mia.